Musica Folta rappresentativa dal municipio 7 di Roma e vediamo che ci sta anche il capogruppo in consiglio municipale per SEL Aldo Benassi. L'importanza di questa presenza? Noi di SEL siamo intervenuti da diversi municipi per sostenere questa manifestazione perché chiediamo che comunque gli attacchi che sono stati fatti nei confronti del sindaco in questi giorni sono tutti illegittimi per cui SEL che è sempre stata leale con il sindaco sia in Campidoglio che comunque anche nei municipi oggi qui è presente in massa. Perfetto, una previsione che sappiamo che nessuno ce la parla di vetro, però secondo voi c'è un sostegno coeso di tutta la maggioranza o qualche distingo che c'era in passato non si è sanato e magari potrebbe anche essere pericoloso? No, io credo che comunque ci sia anche da parte delle varie forze che sono presenti in Campidoglio un sostegno comunque leale al sindaco, abbiamo visto anche in questi giorni, lo vediamo anche qui oggi. Più che altro vedo che c'è da parte di alcuni vertici del Partito Democratico, soprattutto quelli che sono al governo che in qualche modo si sono allontanati dal sindaco, sono meno giustamente perché in questo momento un Presidente del Consiglio che è anche segretario stesso del Partito Democratico, il Partito di maggioranza relativa dovrebbe essere molto vicino al sindaco e concordare con lui i punti su cui comunque concentrare l'azione di governo nella città. Grazie Aldo Benassi